mancano pochi giorni a una nuova scadenza cruciale per il destino dell'ex silva di taranto quella del 30 novembre una data in cui si dovrebbe raggiungere un accordo per l'entrata pubblica nel siderurgico tarantino insieme ad arcelor mittal al momento però i dettagli restano ancora abbastanza confusi e legati solo ad indiscrezioni l'ultima delle quali prevede che sia arcelor mittal che in vitalia entrino entrambe al 50 per cento nella nuova compagine societaria e da lui poi tutto resta ancora volto abbastanza nel mistero come hanno confermato anche i sindacati in una conferenza stampa proprio questa mattina infatti hanno affermato che del piano industriale e di quello ambientale sembra non ci siano ancora indicazioni e anzi hanno ribadito con forza che per loro la scadenza del 30 di novembre quindi l'accordo finanziario per la nuova partnership sarà solo la partenza della trattativa e del confronto perché perché voglio essere pienamente parte attiva nella stesura del piano industriale e di quello ambientale di cui comunque i lavoratori devono essere una parte integrante tra le altre cose che i sindacati hanno ribadito questa mattina c'è sicuramente quella degli esuberi zero esuberi zero in un saldo che richiami però l'accordo sindacale del 2018 quindi che comprenda anche i 1700 addetti che oggi sono rimasti in amministrazione straordinaria e che sembravano in questi ultimi anni finiti un po' un po' nel dimenticatoio quindi la questione è tutt'altro che risolta e probabilmente animerà sia il finale d'anno che i primi mesi del 2021